buongiorno amici buongiorno juventini buongiorno gobbi ve l'avevo promesso e oggi dedico questo video a una recensione ho già fatto per il libro di nicola rogeo oggi dedico il video alla recensione di questo qua juventus segreta lo vede gigi moncalvo per tutti i resti me lo sono fatto come regalo di natale io in genere compro libri a natale e dedico questo mio video a questo libro che appena finito di leggere allora diciamo che è un libro dove il cui contenuto gran parte del cui contenuto diciamo che a grandi linee già conoscevo lui parla l'autore di innanzitutto dedica la sua prima parte che consiste in quasi metà dell'opera diciamo alle ultime vicende di andrea agnelli soprattutto le ultime parti ultima parte della di quella che è stata la gestione della juventus no e lo fa diciamo da un punto di vista a grandi linee colpevolista di quella che è stata l'ultima parte della gestione agnelli lui attribuisce diciamo i guai gran parte dei guai della juventus in principio a all'arrivo di cristiano ronaldo un acquisto che a detta dell'autore ha in pratica sfasciato i conti della società juventus attribuisce l'addio di marotta anche all'affare ronaldo io so anche altre storie però lui parla grossomodo di questa storia e che per far fronte a quello che è stato a tutti gli effetti un fallimento tecnico ed economico tecnico sicuro economico diciamo che molto ha contribuito il covid diciamo e attribuisce ricorso sistematico alle cosiddette plus valenza specchio a la manovra stipendi al grosso impatto economico dall'acquisto del portoghese a una linea una precisa linea di paratici nell'operare in queste cose qua io su questa storia e ve lo spiegare anche l'anno scorso in piena tempesta dal punto di vista bilancistico io avendo attenzione non sono commercialista né tanto meno le visioni dei conti parlo vi parla un umile diplomato in ragioneria e non vi parla un esperto attenzione quindi prendete quello che vi dico con beneficio di inventario con ampio beneficio l'inventario se io faccio una plus valenza specchio cosa vuol dire che io contabilmente contabilmente il saldo finale del bilancio è invariato perché io compro un calciatore un calciatore un calciatore per x milioni e ne arrivendo un altro alla società mia complice diciamo parliamo questo linguaggio qui con lo stesso con lo stesso diciamo allo stesso corrispettivo no il saldo a bilancio è zero quindi se io devo truccare i bilanci il bilancio di quest'anno non è con le plus valenze che lo faccio ma con false fatturazioni ma dal momento in cui io compro e vendo per lo stesso importo non ho nessun vantaggio dove posso avere un vantaggio e ve lo spiegare l'anno scorso dal punto di vista fiscale però non quest'anno gli anni successivi vale a dire quando il bene strumentale in questo caso il calciatore gonfiando il suo valore io aumento la quota di ammortamento per ridurre i costi cioè per aumentare i costi e abbassare l'imponibile avere dei vantaggi fiscali roba che non viene minimamente citata nelle in queste robe qua quindi a mio modestissimo opinione mia modestissima opinione io vi ricordo vi parla un diplomato in ragioneria vi parla un diplomato in ragioneria non un revisore dei conti il discorso del falso in bilancio per me non sussiste perché il falso in bilancio tu dichiari una cifra anziché un'altra è questo il problema e se falso in bilancio c'è c'è per le annualità successive a quelle nelle quali è stata fatta la plusvalenza e dove io vado a gonfiare i costi vado a gonfiare io vado a gonfiare i costi a bilancio del calciatore che ho comprato no ma è tutto un artificio contabile per il quale ribadisco essendo la juventus quotata in borsa lì incorri nel reato di false comunicazioni tant'è vero che è quello il reato contestato non mi risulta sia il falso in bilancio il reato contestato poi qualcuno naturalmente si sbaglierà il reato è false comunicazioni le azioni che è un reato prettamente borsistico non c'è un cazzo cosa voglio dire con questo che in pratica la stessa cosa la fanno tutti solo che tu vieni scoperto perché la tua squadra la tua società è quotata in borsa ora la domanda che mi pongo io è una ma io conscio che essendo la mia società quotata in borsa è molto più soggetta a controlli rispetto alle altre possibile che io sia così coglione da mettermi sotto scopa in questo modo qua può essere tutto può essere però diciamo che molto perché secondo me l'accusa si sgonfierà l'accusa si sgonfierà e andrà in prescrizione in modo tale da fare pari e patta io esco pulito io indagato esco pulito tu magistrato non fai la figura di merda quanti processi grandi processi e grandi inchieste sono finite con la prescrizione in Italia a partire da Calciopoli ecco su questo mi permetto di obiettare con Moncalvo perché secondo me la cosa è molto più molto meno grossa di come è stata dipinta ma vabbè l'Italia funziona così quando c'è di mezzo la Juventus o come quando c'era di mezzo Berlusconi e tante altre lui in pratica parla come Andrea Agnelli anche per ragioni sentimentali la sua seconda moglie abbia un po' sbarellato ma io francamente questo è un coso che prendo con beneficio di inventario eccetera 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 in tutta però sapete in tutto questo bailam in tutto questo bailam perché in merito di Andrea Agnelli finisce la prima metà del libro e si va direttamente all'ultimo capitolo lui giustamente l'autore si pone una domanda che è un po' il segreto di Pulcinella possibile che John Elkan non sapesse nulla quant'anche Agnelli avesse fatto la peggiore truffa e io sia completamente fuori strada nella mia spiegazione possibile che John Elkan non sapesse nulla ma soprattutto domanda che però il Moncavo non si pone ok l'acquisto di Cristiano Ronaldo ha creato secondo l'autore una spaccatura a livello societario io so che con Marotta c'entrava anche all'indagine dell'Andrangheta eccetera eccetera io so anche questo e poi diciamo no perché quando vogliono far fuori un presidente non si esita un presidente di squadra di calcio non si esita a usare certi mezzucci e io purtroppo sono cose che si conoscono purtroppo ti fanno tela bruciata intorno ti mandano al pubblico ludibrio io quando vedo queste situazioni sicuramente c'è qualcosa dietro qualcosa che puzza dietro e non parlo della Juventus stavolta ma di una cosa molto attuale che riguarda diciamo ambienti che io conosco possibile che John Elkan non sapesse nulla di tutto questo si chiede l'autore e io sottolineo possibile che John Elkan non ebbe nulla da obiettare sull'acquisto di Cristiano Ronaldo aggiungo io domanda in evasa da parte dell'autore ma soprattutto quello che ho sempre detto può dal punto di vista economico una società come la Juventus posseduta per il 63% da Exor e il cui maggior azionista fino a un paio d'anni fa dava 40 milioni l'anno a Sebastian Vettel può essere un problema Cristiano Ronaldo per uno che ha dato per 5 anni non solo per 4-5 anni 40 milioni l'anno a Sebastian Vettel può essere un problema mistero glorioso e gaudioso tant'è vero che le ricapitalizzazioni si sprecano in questi anni siamo quasi un miliardo di ricapitalizzazioni tra le ire di un azionista che in un'intervista a un quotidiano ha voluto rimanere anonimo che però faceva trapelare anche un'altra cosa che tiro a fine alla fine della recensione insomma come da copertina in questo libro emergono due figure Andrea e suo cugino il proprietario della Juventus il quale secondo l'autore qua passiamo alla seconda parte del libro sarebbe dovuto diventare in virtù di alcuni accordi fra i due rami i due grandi vecchi della famiglia Gianni che lascia il timone della Juventus a Umberto perché Umberto stava sul cazzo Enrico Cuccia che aveva fatto prestiti tramite Mediobanca a metà anni 90 a Fiat e tutto il resto con la promessa di non far occupare di Fiat il fratello Umberto e tutto il resto quindi vedete che emerge una diarchia in questa famiglia dove c'è metà famiglia Ramo Gianni introdotta nell'establishment e tutto il resto e l'altra metà trattata come degli appestati molto temuta che è Ramo Umbertiano diciamo tant'è vero che nel 93 siamo nel 93 dopo Tangentopoli in una delle crisi Fiat che succede? Gianni riceva questi finanziamenti da Cuccia eccetera eccetera la Mediobanca diciamo e guarda a caso coincide con il periodo in cui la Juve smette di fare grandi acquisti ok? smette di fare grandi acquisti perché ricordiamo che dal 90 al 93 al 92 la Juve ingaggia nell'ordine Balcio Giulio Cesar Esler Di Canio Vialli Müller Dino Baggio Ravanelli Platt costruisce a grandi linee la squadra che poi vincerà lo scudetto con Lippi che succede? Fra il 93 e il 94 la Juve passa di mano Gianni si sdebita con suo fratello per mantenere fede agli accordi con Cuccia occupatevi voi della Juventus eccetera eccetera è lì che Umberto in pratica chiama Giraudo Moggi e tutti gli altri Umberto molto abile dal punto di vista finanziario cosa fa? si circonda di queste persone questi dirigenti capaci e tutto il resto che comprano e vendono comprano e vendono tanto è vero che nell'estate 94 che succede? ve l'ho più volte detto la Juve vende Moeller e Dino Baggio grandi protagonisti del biennio trapattioniano no del secondo biennio del triennio trapattioniano del trapatturibis arrivano Paolo Sosa e Deschamps capitani due nazionali in disgrazia che non siano qualificati ai mondiali oddio per la verità Deschamps avrebbe vinto la coppa campione con Marsiglia però anche lì finita male e tutto il resto insomma l'anno dopo vende Baggio e lancia del Piero insomma l'anno dopo ancora dopo la Champions via Viali Ravanelli e Sosa protagonisti dei primi anni di Lippi dentro Montero Vieri Amoruso Zidane che era ancora sconosciuto quasi sconosciuto e così via e così via tanto è che la Juve vince e tutto il resto poi naturalmente non può non sfiorare l'argomento calciopoli dove lui ricalca a grandissime linee la puntata di report sì ok Moratti sì ok Facchetti sì ok Carraro sì ok le porcherie fatte dalla procura di Napoli e da un PM in particolare ok le fughe di notizie ok tutto però che ci fosse la longa manus interna lui racconta di un aneddoto di ben prima di Calciopoli quando fine 2004 quando in pratica si festeggiava il titolo mondiale Ferrari dove un amico di Moggi chiama oh sai cosa va dicendo Montezemolo fra i tavoli che finalmente ci toglieremo dai coglioni Giraudo e e Moggi questo un anno e mezzo prima che scoppiasse Calciopoli un anno e mezzo anzi addirittura pare che Carraro avesse già alcuni alcuni i brogliacci delle intercettazioni già nel 2004 2005 già fosse in possesso di certe robe racconta l'aneddoto che Moncalvo racconta anche in un video con Marcello Chirico se voi lo ricordate racconta un aneddoto è questo che secondo me fa capire tante cose di cosa successe in quegli anni di cosa successe in quegli anni siamo a maggio del 2004 Milan vince lo scudetto Inter e Juve sono alla ricerca dei successori di Lippi e Zaccheroni in pratica viene contattato dall'Inter buonanima del giornalista Giorgio Tosatti no perché giustamente in seno all'Inter la società Inter c'è una una discussione su chi deve sedere sulla panchina dell'Inter allora Facchetti e Tronchetti Tronchetti un po' più tepidamente ma anche lui vogliono capello Moratti vuole Mancini che era già un suo pallino da calciato vuole Mancini sembra prevalere la linea Facchetti viene contattato Tosatti ben introdotto in ambienti romani tuttire la grande giornalista Guavira Tosatti contatta Capello te la sentiresti di andare all'Inter così con la ma l'idea mi piace affermerebbe Capello devo parlare col mio presidente presidente della Roma e allora Franco Sensi state attenti a questo passaggio che è molto indicativo di cosa in quale clima matura Calciopoli state attenti a questo passaggio attenzione che penso che sia la parte più importante di questo libro Capello contatta Tosatti senti gli dice si può fare ha detto ho parlato col presidente si può fare ho trovato un accordo secondo il quale lui mi lascia libero a patto che io rinunci a 5 mensilità retrate apro e chiudo parentesi vi ricordate quando io vi dissi quando io vi parlo della via Crucis di quegli anni lì 2002 fallisce la Fiorentina 2003 fallisce la Parma e di conseguenza qualche anno dopo il Parma 2004 fallisce il Napoli e sta anche per fallire la Lazio starebbe fallendo anche la Lazio nel 2005 fallisce il Torino la via Crucis mancava considerate che la Juve è di Exor all'epoca IFI o IFI e che il Milan era di Berlusconi presidente del consiglio chi manca all'appello delle grandi piazze in crisi chi manca all'appello tutto parentesi allora in pratica Cappello chiamato Satti e dice se si mi lascia libero a patto che io rinunci a 5 mensilità retrate e questo la dice lunga su come erano messe le squadre di calcio all'epoca poi ricordate le parole di Cellino dopo a ciò aggiungeteci il fatto che tra i registi di quell'operazione là c'era Franco Baldini eh vabbè ex Roma che succede? Cappello della sua disponibilità passano i giorni si deve solo mettere nero su bianco praticamente passano i giorni nessuna notizia se non che all'improvviso Capello telefona tutto incazzato Tosatti ma che figura di merda mi hai fatto fare ma che cazzo avete combinato mi avete fatto esporre col mio presidente stamattina leggo sul giornale che io devo andare io devo andare a letter stamattina apro il giornale e leggo che mancini ai dettagli se non che Tosatti tutti tutti imbufalito che fa chiama Facchetti il quale non sa che come cazzo risponde ma sai com'è Moratti si è impuntato su Mancini così colà insomma il colloquio finisce là con Mancini che firma con l'Inter come allenatore e Tosatti tutti imbufalito che contatta Moge Giraudo no che praticamente erano avevano quasi deciso per dirvi Dechamp allenatore della Juventus Dechamp che quell'anno arriva in finale di Champions League a Monaco a Gersenkir che è contro il porto di Murigno quindi era un allenatore emergente allora come d'altronde lo era Murigno all'epoca e la data fatidica è proprio quel 27 maggio lì il giorno dopo di quella finale di Coppa Campioni Moge e Giraudo ricevono la notizia insomma in un giro di fax non c'era ancora l'APEC tutte queste cose qua non c'erano ancora fax contro fax deposito in pratica viene in un giorno nemmeno di 24 ore Cappello diviene formalmente l'allenatore della Juventus formalmente sostanzialmente l'allenatore della Juventus tanto da Moge e Giraudo sono in viaggio da Milano per Torino no in macchina non ricordo chi dei due dice chiamiamo il dottore Umberto Agnelli l'avvocato è morto l'anno prima è il 27 maggio del 2004 attenzione questa data chiamiamo il dottore e gli comunichiamo la lieta notizia se non che uno di due vabbè ora stava riposando non lo chiamiamo tempo qualche minuto squida il telefono di uno dei due e Donna Allegra la moglie di Umberto Agnelli guardate che mio marito è venuto a mancare se non che Giraudo dice a Moge Giraudo che è molto più ben introdotto all'interno delle dinamiche della famiglia rispetto a Moge Giraudo dice a Moge è la nostra fine è la nostra fine ma come la cosa come dice Moge stiamo costruendo la squadra più forte del mondo così purtroppo avrà ragione Giraudo perché di lì in poi comincerà uno stilicidio comincerà il discorso della Juve simpatica degli smile e tutto il resto c'è un altro passaggio che ci fa capire come i due qualcosa si aspettassero quando Moge viene ricevuto a Palazzo Grazioni da Berlusconi 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 sicuramente sapeva qualcosa sapeva qualcosa e inizia a fare la corte a Giraudo e Moge poi succede quello che succede tra l'altro io ho letto anche il libro io Ibra no anche Ibra vedemmo oggi in quella primavera più distaccato gli promette il contratto il prolungamento di contratto l'adeguamento si si poi non lo prolunga più lo vede assente così con la poi dice Ibra poi ho capito cosa stava succedendo in effetti e poi succede quello che deve succedere la cosa più imbarazzante degli anni successivi ora sappiamo tutti il Tar e tutto il resto Blatter che ringrazia Montezemo per aver impedito la Juventus si ricorre all'altare eccetera eccetera Blanc ricordate Gianlui Blanc che praticamente era stato praticamente assunto un anno e mezzo prima di calcio un anno e mezzo prima di quando fu realmente assunto ricevete la proposta da John Elkan in persona inizio 2005 una roba del genere Blanc Montezemo la Juve più umana la Juve più simpatica tutte cose che purtroppo noi juventini sappiamo questo in sostanza un libro ribadisco di cui il contenuto in gran parte lo conoscevo alcuni passaggi importanti sono i più importanti sono quelli che vi ho detto soprattutto in merito all'arrivo di cappello alla Juve dove lì veramente si capisce in che stato è ridotto il calcio italiano come poi avete visto da Report con Cellino che brucia tutto così con la tutte cose che bene o male già sapevamo mi aspettavo qualche novità in più devo dirlo anche se il libro conferma grandi linee quello che io ho sempre pensato che qui stava cadendo tutto il baraccone come sta per cadere adesso tutto il baraccone e bisognava trovare il colpevole perfetto per poter consentire di prendere bisogna colpire il più forte per consentire alle altre di risollevarsi e adesso è una mia opinione ma non è che un palliativo non è che un palliativo si vuole imbellettare un albero che sta marcendo da dentro tanto prima o poi il giocatore si sfascerà sul serio prima o poi il morto verrà a Galla non è questione di quando può essere fra dieci vent'anni è solo questione di sé del resto siamo ancora il paese che crede che la bomba di Bologna l'abbiano messi due scalmanati di due teppistelli delle versioni nera l'ho sempre detto iscrivetevi al canale